La classe media lavora... Allora, raccontiamo al filosofo, per esempio, che sui vigili del fuoco, in legge di stabilità, la Lega ha presentato degli emendamenti. Primo, per adeguare gli stipendi dei vigili del fuoco a quelli delle altre forze dello Stato, bocciato dalla maggioranza che governa questo Paese. Secondo, per stabilizzare i precari vigili del fuoco, che tutti dicono che sono bravi e sono degli eroi. Ma quando la Lega ha presentato l'emendamento per stabilizzare i vigili del fuoco precari, gli amici della Castaldini e il PD l'hanno bocciato. Bocciato! Sì, dopo ci sono i fatti, che sono i soldi spesi e i tavoli di trattativa aperte. Sì, i tavoli di trattativa, ci riempi i tonciotere visivi. È così, è così. I tavoli di trattativi, riempi i tonciotere visivi. Quando in aula del Parlamento ci sono le cose concrete... Sì, emendamenti della Lega. Vabbè, mi fate tornare a Mario Riccone. ...che sono gli emendamenti della Lega o votate un tre. Mi fate rivedere Mario Riccone.